Esordio con un pareggio, poteva andare meglio? Sì, volevo esordire con una bella vittoria qua in casa, dispiace per il pari, alla fine queste partite se non fai 2-3 gol tieni sempre l'avversario a galla, però ci teniamo questo punto e ci prepariamo alla grande per domenica. Purtroppo il Pescara questa sera non ha creato tantissimo, tra l'altro uno dei pochissimi tiri in porti è arrivato con il tuo destro da calcio di punizione, l'avevi calciata bene? Sì, dovevamo forse creare un po' di più per ammazzare la partita, avevo calciato, ho preso la porta, però è stato bravo anche il portiere a fare quella parata. A 2 tu puoi giocare tranquillamente nel centrocampo del Pescara e nelle tue caratteristiche? Sì, comunque l'ho giocato anche in passato a 2, quindi mi trovo bene. Se potessi scegliere tu a 2 o a 3? No, è indifferente. Anche a te chiedo prima di salutarti l'ultima cosa, come ho chiesto a Cernigoi, se ci racconti un po' questi ultimi 3-4 giorni di mercato. No, so che c'è stato l'interesse del Pescara, l'interesse molto forte, io non ci ho pensato due volte, ho accettato subito. Ho parlato anche con compagni che avevo a Vicenza che erano stati qua a Pescara, come Crecco, come Giacomelli, e comunque ho parlato anche con Gerardi perché era venuto qua una settimana prima e mi hanno parlato molto bene, mi ha parlato molto bene del gruppo, del mister, quindi non ci ho pensato due volte a venire qua.